L'infiammazione cronica presente nelle persone con asma a lungo andare può provocare delle vere e proprie alterazioni anatomo funzionali, il cosiddetto rimodellamento delle vie aeree. Abbiamo fatto il punto su questo tema molto importante anche dal punto di vista terapeutico con un vero esperto, col professor Giorgio Walter Canonica. L'abbiamo incontrato a Milano nel corso di un evento incentrato sull'asma grave che ha fatto il punto sulle più recenti acquisizioni sia in termini di diagnosi sia in termini di terapia. Professor Canonica, oggi si è parlato molto del rimodellamento delle vie aeree nei pazienti, nelle persone con asma grave. Cos'è esattamente? Cosa vuol dire rimodellamento? Il rimodellamento delle vie aeree è un fenomeno che peraltro si studia da oltre 25 anni che significa una modificazione strutturale, cioè della struttura del bronco, come esito di un'infiammazione cronica delle vie aeree. Non dimentichiamo che l'asma è definita malattia infiammatoria cronica delle vie aeree. Ergo si capisce come l'infiammazione, che voi sapete essere prevalentemente di tipo eosinofilo per quanto riguarda l'asma, ovviamente induce questo problema. Questo che cosa significa? Significa che questo impatto di modificazione strutturale negativa, il spessimento della membrana basale, un aumento della massa muscolare a livello del bronco, significa una maggiore contrazione quando c'è lo stimolo e quindi questo che cosa significa? Un impatto notevole su quella che è la funzione polmonare del soggetto asmatico. E la risoluzione, o meglio, la modificazione di quello che è un danno strutturale diventa fondamentale oggi perché purtroppo tutto quello che abbiamo studiato precedentemente è che le terapie che abbiamo usato fino adesso, cioè fino alla pre-era dei biologici, non avevano ottenuto nessun risultato nel modificare quel rimodellamento che in realtà deve essere inteso come un danno alla struttura del bronco. Professor Canoneca, oggi si è parlato molto dei farmaci biologici, in particolare del Dupilumab. Ecco, quello che volevo chiedere è l'effetto del Dupilumab sul rimodellamento delle vie aeree e se la sua azione riesce a far anche regredire la patologia. Il concetto va in parallelo, cioè in realtà la grossa innovazione è il fatto che i biologici, in particolare il Dupilumab, sono in grado di indurre una modificazione. Questi dati sono illustrati da uno studio giapponese, sono illustrati da uno studio svedese, dallo studio Vestige che sta attualmente uscendo, ma quello che voglio significare è questo. Quando noi studiavamo le cause del rimodellamento, quello che abbiamo dimostrato è che proprio l'interlochina 4 e l'interlochina 13 venivano internalizzate dai fibroblasti polmonari umani, inducendo A una proliferazione degli stessi e B una trasformazione da fibroblasto a miofibroblasto. Questo cosa significa? Significa un aumento della contrattilità del bronco stesso. Ergo, voi capite che se quelle due citochine erano quelle che mi determinavano quello, è chiaro che se io blocco ottengo un risultato e il risultato è stato, adesso cito brevemente gli ultimi dati che sono A, diminuzione del mucus plug, cioè di tutta quella parte di muco che mi riduce anche di per sé quello che è il calibro delle vie aeree, quindi la funzione polmonare. Il secondo, gli ultimi dati sono in una diminuzione di quello che è l'esplosimento della membrana basale, cioè della parete del bronco, quindi è chiaro che se io diminuisco lo spessore, aumento il calibro del bronco stesso. Quindi non ha solo l'effetto di bloccare il rimodellamento, ma anche un effetto di fare regredire quella che è la situazione che si era creata in quel paziente. Esattamente e questo chiaramente comporta un miglioramento funzionale e devo dire che le cose vanno sostanzialmente in parallelo. E a questo punto il messaggio per il clinico quale può essere? Di agire più in fretta, di agire prima, cioè di evitare che si crei questa situazione che sicuramente non è positiva? Questa è una domanda estremamente stimolante che si sta indagando e quello è il concetto dell'early treatment, cioè poter trattare il paziente vado al dunque, prima che insorga il rimodellamento. Il problema è che io non lo posso fare oggi perché il pagatore o l'autorità regolatoria mi impedisce di usarlo nei pazienti che chiaramente potrebbero trarre il giovamento. Questo è però quello che si sta indagando perché è fondamentale, anche perché il discorso è probabilmente possibile e io lo posso fare nel paziente che so che svilupperà il rimodellino, d'accordo, e magari con una quantità di trattamento che è cost effective, perché chiaramente il vero problema sarà quello dei costi dell'uso dei biologici anche in quei pazienti. Comunque, un trattamento precoce è considerato tutti i vincoli che ci sono, che logicamente vanno rispettati, è sicuramente positivo a questo punto? Beh, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista concettuale, la risposta è sì, però dobbiamo anche fare una valutazione di quella che è la farmacoeconomia, altrimenti non sarebbe possibile applicarla.